Scompare a 101 anni David Rockefeller, il patriarca della potente famiglia americana, filantropo e banchiere internazionale. Era l'ultimo nipote ancora in vita di John Rockefeller, il fondatore della Standard Oil, il miliardario deceduto per insufficienza cardiaca nel sonno. Nel corso della sua lunga vita, David Rockefeller è stato il numero uno della Chase Manhattan Bank, l'istituto che poi ha dato vita a JP Morgan. Non dimentichiamo poi che fu l'ideatore degli incontri del famoso gruppo Bilderberg e il fondatore della Trilaterale con l'obiettivo di spingere l'economia verso la globalizzazione. Era stato appena inserito da Forbes nella classifica degli uomini più ricchi del mondo con un capitale di 3,3 miliardi di dollari. Tra le ultime donazioni importanti nel 2008, 100 milioni di dollari all'Università di Harvard.